buongiorno stupidi alunni buongiorno prof il primo che parla in questa classe verrà sepolto sotto la sabbia comunque vi ho portato le verifiche che avete fatto settimana scorsa mano consegna le verifiche siete andati bene per vostra fortuna altrimenti mano vi avrebbe torturato con molto piacere ma raga questa è pazza ci tenevo a dirvi che siete una classe insopportabile ma quanto antipatica fingo che non mi importi se la gente non piaccio ma nel profondo in realtà mi piace tu perché stai utilizzando il telefono in classe non si usa mi scusi trovo i social media un vuoto su chi anime di affermazioni senza senso toglilo immediatamente dal banco signorina perché sei vestita con una maglietta rosa e un pantalone viola i colori mi irritano ti metterò una nota per questo abbigliamento orribile tu perché continui a parlare se non stai zitto mi alzerò e ti darò una mazza in faccia prof posso andare in bagno fatti la pipì nelle mutande e come punizione per avermi chiesto di andare in bagno te la dovrai bere e quindi e quindi Grazie a tutti.